Il Villabiaggio non sa più vincere. Altro stop per gli uomini di Mr. Cocciari che si fanno raggiungere dal carpenetto dopo il vantaggio iniziale, portando così a sé la striscia di gare senza successi. Parte subito forte il Villabiaggio che al primo minuto già con Goretti prova il tiro di prima intenzione, ma la palla è fuori di poco. Al dodicesimo si fa rivedere con Brunori che dal limite spara alto sopra la traversa. Diciassettesimo minuto, vantaggio Villabiaggio. Pettinelli da dentro l'area, tira, respinge il portiere e magra maccia. Trovi il tapin vincente e segna la retta dell'1-0. Si fanno vedere anche i padroni di casa in attacco. Schema su punizioni, Rantier dal limite manda però fuori. Al trentaseiesimo Silla davanti al portiere e manca clamorosamente la palla, occasionissima per il pareggio. Al quarantaduesimo pareggia Rantier ma il gol viene annullato per fuori gioco. Ma sul fine del primo tempo è invece Silla a trovare la rete valida. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta di testa lasciato tutto solo e segna il gol dell'1-1. Il secondo tempo si riapre con il Villabiaggio ancora in attacco. Al terzo minuto Moretti tira dal limite, la mala palla ancora fuori. Al ventottesimo minuto è poi Brunori sugli sviluppi di un calcio d'angolo a cercare la girata ma è ancora fuori. Al ventinuevesimo minuto colpo di testa di Cardarelli, miracolo del portiere. E questa è l'ultima emozione della partita. Nemmeno i giocatori entrati in campo dalla panchina riescono poi a sbloccare il risultato. La partita finisce quindi in parità. Carpeneto 1-1 Villabiaggio 1-1.